Henry però così non ci siamo io ho freddo non ci siamo neanche fermati in autogrill tu sei sempre a cambiare getti e candele non ne posso più voglio arrivare a curva te l'ho detto vivi tutto questo come un'esperienza ho detto prendo l'ape perché il maserati non parte e ti accontenti di questa roba qua salendo di quota devo cambiare getto un attimino su fai due storie intanto no vai però Henry finge un po' a a a a Henry guarda che bello un mix di arte geometrie perfetto per la mia casa lo voglio sto a fare qui quanto costa? 2.000 euro 2.000 a gusti ma no Eli scusi si sarà da restaurare non avrà il libretto avrà ruggino nel serbatoio ma non il motorino il bambi è perfetto per me compramelo ma che bambi? si accurmo io al comprare il bambi si no no con te io sono stanco morto andiamo in albergo e domani ripassiamo da bambi vi sembra una buona idea ti volevo ringraziare per queste giornate insieme sciare le piste nere che bello ah mettilo nel video ecco ho fatto la pista nera con gli sci? si ma se non ho portato niente per riprenderti Eli ma quel piste nere Elisa mica c'erano loro con le telecamere ma come? facciamo il video dove facciamo vedere il nuovo mozzo per il ciao questo qua è il video della pubblicità quindi tu hai fatto tutto questo per la pubblicità del nuovo mozzo del ciao? ma almeno è rinforzato è rinforzato c'ha le viti a brugola l'or le ganache un sacco di robe che devo caricarle adesso vabbè dai vieni qua che c'è la sorpresa ma che sorpresa Elisa non abbiamo fatto neanche un tiktok oggi e io cosa faccio adesso? fai due storie dalla finestra mi taghi e bom si ciao per il pranzo poi ci aggiustiamo 12 euro e 90 delle tre stelle per la pubblicità per la pubblicità per la pubblicità per la pubblicità